Nel mondo della televisione e dello spettacolo, una notizia triste ha scosso il cuore dei suoi numerosi fan. Prima di continuare ricordati di iscriverti e attivare le notifiche per non perdere i nuovi contenuti e per sostenere il nostro lavoro. Il tuo contributo è prezioso, grazie di cuore. Aleandra Villafane, icona colombiana, si è spenta all'età di soli 34 anni, lasciando un vuoto nel mondo dello spettacolo che sarà difficile da colmare. Questo video, un commovente omaggio a un talento straordinario, è un tributo alla famiglia e agli amici che hanno circondato la sua vita. Aleandra Villafane, una presenza luminosa sui social media, ha condiviso l'ultimo messaggio il 12 ottobre scorso. La notizia della sua prematura scomparsa è stata un duro colpo per i suoi seguaci e per il mondo intero. La sua battaglia coraggiosa contro il cancro è stata un esempio di forza e determinazione. La sua lotta contro il cancro ha attirato l'attenzione di molte persone. Nel corso dei mesi, Aleandra aveva condiviso apertamente la sua esperienza con la malattia, sottoponendosi a chemioterapia e a un intervento chirurgico per combattere tre tumori maligni, colpendo il seno e le ovaie. Nata in Colombia, Aleandra Villafane era una celebrità amata nel suo paese d'origine e oltre i confini nazionali. Oltre alla sua carriera nelle telenovelas, che includevano successi come Così Come la Nieta e Leida, aveva anche fatto parlare di sé come modella e vincitrice del concorso Miss Colombia nel 2014. Oltre al suo talento artistico, Aleandra sarà ricordata per il suo spirito instancabile, il suo sorriso contagioso e la sua generosità. Lascia un vuoto profondo nel mondo dello spettacolo, ma il suo spirito vivrà per sempre nei cuori di coloro che l'hanno amata e ammirata. Il suo compagno ha condiviso un toccante video che mostra i momenti speciali condivisi tra di loro, pochi giorni prima della sua scomparsa, un omaggio al loro amore eterno. Mentre piangiamo la sua perdita, celebriamo la sua vita straordinaria e il suo impatto indelebile sull'industria dell'intrattenimento e sulla vita di chiunque l'abbia conosciuta. Aleandra Villafane, sarai per sempre nei nostri cuori.